Ho gli ucanitti pizza e panini a soli 15,90€ e io non potevo mancare. Ci troviamo da Farina a Capodrise, vicino Caserta. Sono venuta qui per mangiare quanti più panini e pizza possibili. Chi riuscirà a battere il mio record mangerà gratis. E mo' non si scherza più. Adesso facciamo sul serio. Iniziamo con l'antipasto. Sempre in curso, le 15,90€. Crocche. Bello filante. Frittadina classica. E per finire, montanarina classica. Tutto molto buono. Adesso, pizza. Bufalina super. Raga, prima pizza andata, molto buona. Andiamo di seconda. Io ho scelto una zucca. Oltre alla crema di zucca, abbiamo i funghi porcini, le nocciole e il guanciale. La seconda è andata. Ora andiamo di... Ben due panini. Inizio con quello al manzo. Questa è la mia mano. Questo è il panino. E il primo hamburger è andato. Secondo paninazzo. Questo con la cotoletta. Terminati i due panini. Continuiamo con un'altra pizza. Questa è una margherita con funghi champignon e funghi porcini. Terminiamo anche questa. E per mantenerci leggeri, una bella pizza fritta. Voilà. Regà, io mi fermo qui. A tre pizza e mezzo, due panini, i fritti misti e le patatine ma è comprese nei panini. Lo spazio per il dolce, come sapete, c'è sempre. Però tengo a specificare che non è compreso ne 15 ore e 90. Grazie. Giang du Jot al pistacchio. Siamo in Piemonte. Siamo in Campania. Terminiamo il dolce. Ma prima di salutarvi, un'ultima cosa. Sempre inclusa, nei 15 ore e 90, la raggiunga i vostri bambini. E che cosa aspettate? Ciao, ma non l'avete finito? Basta! No, è mio!